Le cito due esempi importantissimi. A Pescara c'è il centro di servizi che si occupa dei rapporti internazionali. Recentemente hanno esaminato le banche internazionali che avevano fatto operazioni su cambi e su derivati e hanno recuperato quasi 2 miliardi di euro di indebiti rimborsi di imposta. Le cito due esempi importantissimi. A Pescara c'è il centro di servizi che si occupa dei rapporti internazionali. Recentemente hanno esaminato le banche internazionali che avevano fatto operazioni su cambi e su derivati e hanno recuperato quasi 2 miliardi di euro di indebiti rimborsi di imposta. Le cito due esempi importantissimi. A Pescara c'è il centro di servizi che si occupa dei rapporti internazionali. Recentemente hanno esaminato le banche internazionali che avevano fatto operazioni su cambi e su derivati e hanno recuperato quasi 2 miliardi di euro di indebiti rimborsi di imposta. A Pescara c'è il centro di servizi che si occupa dei rapporti internazionali. A Pescara c'è il centro di servizi che si occupa dei rapporti internazionali. Grazie a tutti.